Stefano Civitarese è il candidato sindaco della lista Coalizione Civica per Pescara. L'ex assessore comunale all'urbanistica scende in campo per le amministrative del prossimo 26 maggio. Civitarese, 55 anni, è professore ordinario di diritto amministrativo all'Università Gabriele D'Annunzio e si è detto entusiasta del progetto, aderendo alla piattaforma programmatica, impegnandosi a metterla in pratica a proseguito e preparandosi alla sfida elettorale. Sì, è nata proprio come un'esperienza dal basso appunto e quindi una piattaforma per discutere un'idea nuova della città soprattutto proiettata verso il futuro che naturalmente tenga al centro i diritti delle persone meno fortunate, delle donne, dei bambini, con un occhio attentissimo alle grandi opportunità che ci sono nelle periferie ma poi che si basa soprattutto su una idea di qualità della vita che si fondi quindi sull'ambiente. L'ambiente è in tutte le sue declinazioni, quindi significa anche appunto eguaglianza, solidarietà, attenzione a una società civile diversa, però soprattutto i temi che a me sono cari rispetto proprio all'idea di una città che si basi su una mobilità di massa, dolce, che possa consentire di liberarci da un'eccessiva oppressione dell'uso del mezzo privato, che tra l'altro è quello che condiziona le nostre vite in modi che noi non pensiamo neanche ma che di fatto ci stanno portando davvero a problemi di salute, di distruzione delle risorse che vanno affrontati urgentemente. Siccome questa piattaforma è nata su queste cose, ci sono tantissime persone che si sono offerte di collaborare, associazioni al di fuori dei partiti tradizionali, ma noi crediamo nella funzione dei partiti, non siamo un gruppo antisistema come si dice. In questo momento però i partiti devono fare una grande riflessione al loro interno, soprattutto quelli di sinistra e il cosiddetto modello Legnini va riprodotto in un modo però che parta davvero dalla società e che abbia alla base un programma, qualcosa da fare.